Oggi vediamo una pistola che molti stanno acclamando come una delle migliori del gioco, la Ruby Spite. Cosa fa questa pistola? Al costo di una singola munizione fa un burst di due colpi, quindi estremamente ammufficent, in che questi burst sono composti da tre proiettili in linea orizzontale, quindi un totale di sei proiettili per colpo. Per ogni colpo che colpisce il nemico questo si appiccica per cinque secondi e aumenterà i danni che subirà quel nemico di un ulteriore 3% per ogni colpo. Ora, una volta che avete fatto una kill, il Ruby Spite viene buffato per cinque secondi e andrà ad avere i proiettili a ricerca, come se fosse un Atlas con le granate traccianti eccetera, ma già attive, quindi andrà direttamente a ricerca dei nemici. Avrà un fire rate aumentato e quindi sarà molto più forte. Inoltre, la Ruby Spite ha una seconda modalità di fuoco, dove avrete uno zoom aumentato e, per qualche strana ragione, non sappiamo se sia una cosa voluta o no, probabilmente voluta, ma, boh, i colpi andranno a fare il 190% di danno in più. Quindi praticamente farete il triplo del danno con questa seconda modalità, con più zoom, per cui dovete utilizzare questa, cioè non ha senso utilizzare le altre modalità. È una pistola estremamente forte che viene solo in danno scuro, quindi non potrete andare a farci varie build, ma comunque funzionerà su ogni nemico senza particolari resistenze. Se volete ottenere quest'arma e la volete farmare, potrete andare a ottenerla andando a sconfiggere il fungo mostruoso con un 5% di drop rate con la fortuna base e un 9% con la fortuna massima nel gioco, circa 47.000.